Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Focus Toll Show. In questa puntata ci occuperemo di sicurezza negli ambienti di lavoro e lo facciamo con un esperto, l'ingegnere Alessio Maggi, che è il titolare del gruppo Tecnolario. Benvenuto nei nostri studi. Grazie a voi dell'invito. È un piacere averla qui. Abbiamo detto che lei è uno dei più importanti esperti sul nostro territorio quando si parla di sicurezza sul lavoro, proprio perché la Tecnolario, l'azienda da lei fondata nel 1996, si occupa proprio di queste tematiche. Sì, si occupiamo delle tematiche legate alla sicurezza ai luoghi di lavoro e anche di altri, ambiente, sistemi in gestione e quant'altro. Lei è stato così gentile da portarci i dati aggiornati proprio agli ultimi disponibili della TS per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e sono dei dati tra luci e ombre. Intanto c'è stato un incremento purtroppo degli infortuni mortali. Sì, gli infortuni mortali, i dati sono aggiornati ad ottobre 2023 per un discorso di registrazioni da parte dell'ATS e anche dell'INAIL. Nel 2023, ad ottobre 2023, gli infortuni sono stati sei, mentre quattro, rispetto ad ottobre, rispetto a quattro del 2022. Quindi a me c'è stato un incremento. È anche importante, è un percentuale alto. È un 50%, è un 50%. Altre sì, sempre in maniera variegata, vediamo che gli infortuni nella provincia di Lecco, sempre ripeto ad ottobre, sono stati 2.128 con un calo del 25,1% rispetto all'anno precedente. E questo invece è un dato positivo? Sì, è un dato parziale perché gli infortuni in questo valore sono indicati, attenzione, solo e esclusi i valori degli infortuni itinere, cioè quelli lungo il percorso casa-lavoro. Quelli non sono compresi in questi dati? In quelli che sto raccontando no. Abbiamo un'invarianza perché se noi andiamo a depurare tutti quei valori legati all'incovid, perché tanti infortuni sul lavoro nel mondo sanitario sono legati un po' al covid, sostanzialmente è rimasto invariato. Pensiamo che comunque nel mondo della sanità abbiamo avuto un decremento di circa 61%, mentre il manufatturiero in provincia di Lecco si attesta a un più 5,4%. Mentre a livello nazionale vediamo? A livello nazionale vediamo che il valore generale è sceso dal 16,1% e anche il valore assoluto dell'1,1%. Quindi è il manufatturiero del 19,8%. Quindi siamo insieme alla regione Lombardia, perché anche la Lombardia ha un più 1,1%, siamo in lieve risalita. In lieve risalita? No, non è bello perché noi dobbiamo pensare a una cosa. Il settore che ci caratterizza purtroppo, devo usare questo termine, per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. Eh sì, il manufatturiero, noi siamo prevalentemente manufatturieri, però la cosa importante da tenere conto di un numero che può essere tutto e niente, vuol dire che ogni giorno ci sono 6 infortuni in provincia di Lecco. Ogni giorno, compresi 365 giorni all'anno, quindi compresi Natale, Capodanno, Domenica, eccetera, abbiamo 6 infortuni al giorno. Quindi su un totale di, ripeto, al 31 ottobre sono 6 infortuni al giorno, mentre a livello di regione Lombardia sono circa 250 al giorno. È abbastanza importante, direi. Questo vuol dire che ancora molto deve essere fatto? Sì, deve essere fatto. Scopriamo l'acqua calda, nel senso che lo sapevamo, lo sapevamo purtroppo. È stato fatto tanto, è stato fatto tanto anche perché le nostre autorità territoriali, prendendo i dati della TS Monza-Brianza, nel 2022, a novembre 2022, hanno eseguito circa 5500 sopralluoghi. L'eco Monza-Brianza. L'eco Monza-Brianza, 5510 sopralluoghi, quindi sempre diviso 365, sono 15 controlli al giorno, di cui abbiamo ben 958 cantieri, perché anche lì, non tanto sul nostro territorio, ma a livello nazionale, recentemente anche il triste evento di Firenze, ce lo ricorda, rimane ricordarcelo, è un elemento molto a rischio, sostanzialmente. Sicurezza sul lavoro, a questo tema è dedicato il convegno che si svolgerà il prossimo 9 aprile alla Camera di Commercio, viettonale, organizzato proprio da Tecnolario e ospite l'ex magistrato Raffaele Guarignello, quello della Tisse in gruppo, il magistrato ha fatto anche altro ben alto, però insomma questo è un po' il caso per cui forse lo avete anche invitato, no? Sì, lo abbiamo invitato nella misura in cui, beh, io ho collaborato col professor Guarignello come consulente tecnico per elementi meccanici tipicamente le chiese, quindi era un consulente tecnico di parte per quanto riguarda torni, frese, trafile, tranche, i nostri macchinari, i macchinari delle chiese sostanzialmente, come esperto del settore presso la procura di Torino, oltre a questo rapporto personale vi è questo interesse nel coinvolgere il territorio, nel coinvolgere in primis i clienti, ma anche i professionisti, infatti ad oggi sono venuti iscritti molti professionisti, perché il mondo è grande, è vario, c'è spazio per tutti, l'importante è far crescere la cultura sul nostro territorio che, ripeto, con una giusta sorveglianza, con una giusta vigilanza e i nostri datori di lavoro, le nostre imprese hanno fatto grandi passi, ripeto, dal 1996 ad oggi ho visto le verte, i magli primordiali, diciamo così. Insomma, quindi tanto è stato fatto, bisogna dare anche questo messaggio, perché quando si parla di infortuni sul lavoro, a volte non passa invece questo concetto, il fatto che comunque c'è stata una progressione, c'è stata una crescita, però vorrei parlare del convegno, a questo proposito chiedo alla regia se possiamo mostrare la locandina, così vediamo, guarignello, ospite, ci saranno anche altri interventi, eccola. Abbiamo focalizzato sul guarignello insieme a un discorso di mediazione attraverso la mia persona, i garanti della sicurezza, quindi partiamo proprio a concentrare… Allora intanto vediamo che è il pomeriggio, io lo dico, 9 aprile, dalle 14 alle 18 in via Tonale, Alecco. Esatto. Bisogna iscriversi? Assolutamente sì, non è una partecipazione libera, anche per un discorso di organizzazioni e di security, bisogna assolutamente iscriversi inviando l'iscrizione alla societatecnolario.com. A chi è rivolta? Lei prima diceva ai tecnici, ma… Ai tecnici, ma non solo, anche ai clienti, ai tecnici del settore, anche se fosse possibile, anche gli studenti, se volessero partecipare e quant'altro, perché sicuramente la prevenzione è fatta sin dall'inizio, assolutamente. Ecco, ma c'è un focus particolare. Il focus è i garanti della sicurezza, quindi le figure a garanzia della prevenzione e della protezione nei luoghi di lavoro in quanto tale, quindi dal datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, perché non dimentichiamo che è una figura molto importante all'interno delle aziende, sino ad arrivare alle figure, all'immagine della delega, quindi i datori di lavoro delegati, che è una figura abbastanza labile. Il professor Guarimiello non la vede… l'importante è conoscere chi è dall'altra parte e quindi partiamo da una posizione estremamente rigida e quindi per cui la delega è quasi non valida. E quindi vediamo come vengono fatte le deleghe, come devono essere fatte le deleghe, le deleghe, sino a sfociare all'argomento dei preposti, cioè la delega di fatto, cioè l'articolo 299 del testo unico della sicurezza, la quale definisce che anche senza una nomina formale, ma di fatto, semplicemente, tu puoi essere riconosciuto come un preposto di fatto. Ed è un qualcosa che i nostri preposti, vedi l'operaio bravo, chi viene nominato capoturno, caporeparto, eccetera. Anche senza una nomina formale si possono trovare inguaiati, in difficoltà. Quindi, sostanzialmente, questo è un po' il punto debole o forse più delicato. Debole non è il termine esatto, no? Perché c'è il responsabile della sicurezza e poi ci sono gli operai, insomma ci sono quelli che eseguono. C'è questa figura di mezzo che comunque ha delle responsabilità. Ho capito bene? Assolutamente sì, è una figura intermedia che di fatto è responsabile, addirittura in caso di infortunio o quant'altro, negligendo o vigilando, risulta addirittura complice, può essere coinvolto in situazioni di complicità. Io sono in questo momento perito su un infortunio mortale, purtroppo, e il preposto, negligendo o vigilando, viene chiamato in causa, pur non essendoci una nomina formale e quant'altro, il classico capoturno di fatto, ma chi è che partecipava, chi è responsabile, chi dava le indicazioni, chi ti dava le indicazioni? Lui? Bene, uno scherzo incredibile oppure questo è un preposto di fatto con tutte le responsabilità penali. Infatti il preposto deve, nel caso in cui dovesse trovare una situazione anomala, intervenire e interrompere immediatamente. Abbastanza difficile. Ma perché questo convegno proprio in questo momento? Beh, innanzitutto il 9 aprile è il compleanno dell'81-08, perché il decreto legislativo 8108 viene... Traduca, traduca, che qui non sono tutti esperti. L'81-08 che cos'è? Il testo unico integrato della sicurezza, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è un decreto legislativo che è stato pubblicato il 9 aprile 2008 e quindi compie 16 anni proprio quel giorno. Oltre al fatto appunto... Quindi insomma, il tecnolario ha deciso di festeggiare in questo modo questo compleanno. Sì, di festeggiare... Possiamo dire così? Sì, un festeggiando... Beh, di ricordare, festeggiare magari no, insomma non è il termine esatto, visto l'argomento così delicato. Diciamo che è un argomento estremamente delicato, però è sicuramente anche per festeggiare tutti coloro che si sono impegnati sul territorio, sono andati in pensione e quant'altro, per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ecco, qual è la situazione sul nostro territorio per quanto riguarda in particolare la cultura della sicurezza sul lavoro? La cultura della sicurezza sul lavoro sul nostro territorio è veramente, diciamo, in questi anni si è sviluppata tantissimo. Manca un'azione secondo me di responsabilizzazione e di consapevolezza vera. Non tanto, non voglio sembrare di parte, ma io sono un ingegnere e sono abituato a lavorare con i numeri, a lavorare con le cifre in maniera asettica. Questo lo conoscono tutti i miei, tutti mi conoscono sul territorio per questo, quanti fatti sono estremamente rigido nel non essere coinvolto in situazioni magari dove la sicurezza viene portata in tavoli diversi, sostanzialmente per interessi diversi. Quindi molto si è fatto? Molto si è fatto. C'è sensibilità? C'è sensibilità, consapevolezza, c'è un qualcosa, ecco la figura che ho accennato prima sull'articolo 299, della responsabilità da parte dei preposti, del fisso, soprattutto delle figure intermedie e soprattutto anche il piccolo artigiano e quant'altro che ha un discorso di disponibilità economica, che però questo non vale ai fini del non sapere o del non potere. Insomma ai fini legali non vale? No, assolutamente no. Purtroppo. Diciamo che i lavoratori sono estremamente, c'è bisogno di una marcia in più, secondo me. Ma la causa principale degli infortuni sul lavoro nel nostro territorio, o comunque complessivamente? Allora, operando… Sarà cambiata anche questa immagino nel corso degli anni, no? Così come è cambiata la cultura, saranno cambiate anche le motivazioni, le cause? Guardi, le motivazioni… se partiamo ai primi anni 2000, diciamo, anni 90, lì sicuramente vi era un discorso di non conformità di macchinari, assenza totale di procedure, assenza anche di informazione e formazione e quant'altro. Oggi questa parte è stata molto, molto, molto recuperata. Rimane da sé un discorso di disattenzione, di malfunzionamento di macchinari, il cosiddetto rischio residuo. Il rischio residuo cos'è? Io ho un rischio, faccio una valutazione, posso cercare… il 100% non esiste mai. Ecco, ma puoi darmi una percentuale? Cioè, in quanti casi la colpa è legata all'assenza di misure di sicurezza? O un problema del macchinario? Problemi a essere larghi, direi, intorno al 25% oggi come oggi. Quindi un infortunio su quattro è dovuto a problematiche legate? A essere larghi. A pochi accorgimenti sul fronte della sicurezza? È più un discorso di formazione e sensibilizzazione o l'infortunio… Oggi ci sono tanti infortuni lievi, che sono per esempio quelli giovani, inesperti e quant'altro… Ecco, nei dati che lei prima ha portato, peraltro, c'era anche un 10% di infortuni… Under 20. Under 20. Sì. Quindi quello magari nell'alternanza scuola-lavoro? Diciamo, a livello nazionale, allora, per quanto riguarda la regione Lombardia un 10% e invece a livello nazionale l'11,7%, la maggior parte di questi infortuni avvengono nell'alternanza con la scuola-lavoro, assolutamente sì, e questa è l'inesperienza, il cercare anche di strafare, talvolta i ragazzi cercano di mettersi in mostra, di cercare di farsi vedere validi e magari eccedono, come spesso accade, anche in buona fede, la maggior parte degli ultimi infortuni che io vedo o è distrazione o è veramente un cercare di strafare, ma tipicamente un pezzo storto sotto un macchinario distinto uno va per cercare di sistemarlo. Quindi l'errore umano? Sì, l'errore umano. E ma sull'errore umano come si interviene? Formazione, formazione, sensibilizzazione e anche un'azione disciplinare, secondo me, nel senso che così come un lavoratore oggi come oggi, spesso i lavoratori non hanno questa consapevolezza che il testo unico della sicurezza li responsabilizza, sono responsabili della loro ed altrui sicurezza, cita testualmente. Quindi se io faccio un qualcosa, guido un muletto e investo un mio collega, è un problema, è un problema. Oppure mi comporto in maniera abnorme procurandomi un danno a me stesso, pur avendo tutti i dispositivi di protezione duale, pur avendo tutte le istruzioni, la formazione e quant'altro, è un problema. Ciò non toglie che chiaramente io parto sempre dal beneficio ambientale e dalla buona fede, assolutamente, perché si bisogna partire, perché non penso che sei lavoratori al giorno in provincia di Lecco non siano contenti di non tornare a casa perché si sono fatti male, quindi assolutamente bisogna partire da questo presupposto. Assolutamente, però c'è uguale formazione, il passo in più da fare in questo momento, mi sembra di comprendere, è proprio quello della formazione del singolo lavoratore. La formazione e la responsabilizzazione del singolo lavoratore e del preposto, ed assolutamente del preposto che è una figura, ripeto, labile, assolutamente una figura estremamente labile e incerta nella sua definizione. Uno, ripeto, si trova preposto, pensa di essere un preposto, ho l'aumento, ho le mie gratificazioni, e beh, ma se ti danno le gratificazioni ci sarà un motivo. Senta, so che chiederlo a lei, che si occupa di sicurezza sul lavoro, di formazione, forse un po' blasfemoso questo termine, ma esiste anche la componente sfortuna? Sì, sì, la fortuna è cieca, invece quella ci vede benissimo, spesso e volentieri, assolutamente sì, recentemente c'è stato un infortunio importante dove si è rotto un elemento meccanico ed è assolutamente passato in un pertugio dove uno su un milione. Un senso per la lotta era più facile, assolutamente. C'è anche questa componente. Assolutamente, sì. Io però, lei prima parlava di scuola, di alternanza scuola-lavoro, volevo parlare anche di formazione, cioè di formazione delle figure che si occupano della sicurezza sul lavoro, non di quelle che lavorano direttamente in aziende, ma delle figure, insomma, come lei. Certo. Però, prima, vediamo un servizio che abbiamo preparato dalla regia. Opta, l'organismo paritetico territoriale dell'artigianato, si occupa di sicurezza sul lavoro, quindi entra nelle aziende per parlare di questo delicato tema. Questa volta, con il progetto, sicuramente entra anche nelle scuole, in tre istituti lecchesi proprio per sensibilizzare su questo tema già fin da giovani, coloro che saranno poi i lavoratori. Sì, è un progetto ambizioso che prova, per una volta, a fare prevenzione, ma una prevenzione vera, cioè cercare di parlare ai giovani delle scuole professionali, che saranno i futuri lavoratori, metterli in mano gli strumenti, inserire loro in un seme che potrebbe germogliare, in modo che quando entreranno nel mondo del lavoro abbiano già le conoscenze per prevenire e quindi preoccuparsi più della salvaguardia, della sicurezza e di loro stessi rispetto a quelle che sono delle pratiche, purtroppo ancora ad oggi, usuali nelle nuove di lavoro, purtroppo. Tant'è che in Lombardia siamo ancora un numero elevatissimo di incidenti gravi sul lavoro e di morti sul lavoro. Lo faremo proponendo, grazie a una scrittrice, un libro che parla di cose successe in un'altra epoca e in un altro continente, perché stiamo parlando del 1920, ma che appunto parla di ragazzi giovani, ragazze giovani morte sul lavoro per la mancanza di conoscenza di quelli che erano gli effetti di quelli prodotti e poi hanno sfociato poi in invertenza per cercare di veritare appunto questa, quindi si può dire la prima avvertenza al mondo per quanto riguarda la sicurezza. Per poi portare, grazie agli RLST, delle esperienze vere. Il progetto sicuramente di Opta, lei ha detto, è un'opportunità per i nostri studenti, soprattutto perché la sicurezza sul lavoro deve diventare una questione anche culturale. Noi siamo convinti che la scuola sia il luogo dove si forma la classe dirigente futura, dove si formano cittadini impegnati e consapevoli, dove si formano lavoratori responsabili. Quindi è un tema che per noi è assolutamente centrale e deve diventare un fatto culturale. Quindi siamo impegnati con i ragazzi, con i docenti, con le aziende che ospitano i nostri ragazzi in tirocinio e con le famiglie a fare in modo che il tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro diventi un fatto culturale e questo è uno dei motivi per cui noi abbiamo scelto di incastonare nella formazione professionale anche la crescita globale dei ragazzi. Sicuramente il tema della salute e sicurezza fa parte di un percorso di crescita educativa. Ecco, ho voluto proporre questo servizio perché mi sembrava che in qualche modo riassumesse tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento. Assolutamente sì, è una bellissima iniziativa che mi trova assolutamente pienamente d'accordo e sfonda una porta aperta nella misura in cui oggi come oggi, ne parlavo qualche tempo fa con un docente universitario, in Italia tutti parlano di sicurezza, di ambiente, tutte queste cose belle. In Italia esiste solo una facoltà universitaria che si occupa di salute e sicurezza d'ambiente nei luoghi di lavoro come Trinnale, come Trinnale. Spero che almeno sia in Lombardia. È all'Università dell'Insubra di Varese. Vabbè, almeno questo, almeno questo. All'Università dell'Insubra di Varese cui si è aggiunto un biennio magistrale al Politecnico di Milano per Pipe Factory, cioè industria a ciclo continuo, quindi tipicamente chimiche, piuttosto di grandissime dimensioni. Recentemente poi sempre all'Università dell'Insubra di Varese ha aggiunto anche la magistrale, prima si fermava il biennio per poi sfociare nell'ingegneria ambientale, questa è un'ingegneria chiaramente, invece adesso si è aggiunto anche il biennio di salute, sicurezza e problemi ambientali con una grande iniziativa sostanzialmente. Devo dire che questa è una cosa interessante e dà una difficoltà anche per esempio noi nel trovare il personale. E ma quanti laureati sforna questo? Allora, questo Ateneo sulle magistrali ha sfornato circa un 70-80 all'anno. Parliamo di Varese? Varese, sono pochissimi iscritti. E questo volevo dire. Ed è un posto di lavoro assicurato, posso garantire che a questo momento, sul territorio, non nelle chiese, ma a Lombardo addirittura, un ingegnere, uno specializzato in salute, sicurezza e luoghi di lavoro è assolutamente appetibilissimo, è ricercatissimo. Quindi va bene gli incendiamenti artificiali, gli informatici quando ero giovane io, qualche anno, qualche secolo fa e quant'altro. Però oggi come oggi sulla sicurezza sono ricercatissimi al punto tale che, per esempio, io sono docente universitario, ho creato un master in salute, sicurezza, luoghi di lavoro e problematiche ambientali insieme a un'università che è anche in lontananza, l'Ecampus, dove facciamo, abbiamo raggiunto un buon successo, purtroppo essendo a livello nazionale ce ne sono pochi locali da portare a casa, diciamo così. Però è una cosa assolutamente da spingere, quindi l'iniziativa degli artigiani è lodevole e si sarà, per esempio, un argomento simile è il discorso dei medici del lavoro. I medici del lavoro io li definisco… I medici mancano in assoluto e questa è una tematica, i medici del lavoro ancora di più. Io li chiamo i panda rosa, i panda rosa perché vengono sfornati neanche 50 all'anno, medici del lavoro 50 all'anno. Ma dove? A livello di regione Lombardia e quant'altro, noi siamo 10 mila abitanti, abbiamo il tessuto imprenditoriale e lavorativo più alto, più grande d'Italia, non riusciamo. Arriveremo ad avere veramente fra poco che non ci saranno medici del lavoro e vedremo cosa succede. Però è strano perché voglio dire, il fatto di lavorare in un ambiente sano è importante, è fondamentale, c'è una componente di ogni tipo di impiego. Ma assolutamente sì, nel senso che… Sano e sicuro. Sano e sicuro. La figura del medico del lavoro è fondamentale per questo secondo me perché vigila sulla solubilità dei luoghi di lavoro e sulla salute dei lavoratori. Certo, un medico oggi vede il chirurgo e quant'altro, sicuramente più lodevole e magari con maggiore soddisfazione. Però io penso che il rispettare, vigilare sulla salute dei lavoratori, che sono tantissimi, è altrettanto importante di un chirurgo. Per carità di Dio, assolutamente, però è forse di maggiore impatto. Quindi c'è questa tematica, c'è quella della formazione, lo diceva lei, è una sola università e anche su questo forse bisognerebbe fare qualcosa proprio per aumentare la cultura anche del lavoro. Assolutamente, sì, per esempio, anche semplicemente inserendo non solo a livello di scuole professionali, ma a livello di scuole professionali, di licee, quant'altro, una parte di formazione, una parte di cultura della sicurezza, del sistema di gestione dell'ambiente e anche della sicurezza. Oggi come oggi tanto si riempie la bocca di ESG e cose di questo genere, però di fatto quando uno arriva in un'azienda che si ne occupa realmente di questi argomenti, è una caccia al tesoro. Un caccia al tesoro. Siamo in chiusura. Prima di salutarla chiedo nuovamente alla regia di rimandare alla Locandino e così ricordiamo l'appuntamento del 9 aprile, che è assolutamente molto importante, con il professor Guarignello e l'invito è a partecipare. In tanti. In tanti, però diceva che ci sono già anche tante iscrizioni. Assolutamente sì, stiamo raggiungendo già il limite, è più un discorso, grazie dell'invito, è più un discorso di cercare di trasmettere la cultura sul nostro territorio, che ce n'è già tanta, ma dobbiamo spingere sempre di più per evitare che un padre di famiglia non torni a casa, perché magari si è fatto male poco, anche un taglio al dito e quant'altro, però basta poco per io stesso, da consulente mi sono fatto male in una calandra, per vedere se era in sicurezza, ho verificato che non era in sicurezza. Che non era in sicurezza. Grazie, grazie. A lei, a lei dicci grazie a tutti. Grazie per essere stato ospite nei nostri studi, continuate a seguire Unica TV. Buona serata. Grazie.